Il principe Carlo continua a sostituire la regina mentre riposa al castello di Windsor, il principe Carlo questa mattina era nella residenza di sua maestà nel Berkshire per svolgere i suoi doveri reali. Indossando un uniforme, il principe di Galles ha guidato le investiture di oggi, durante le quali ha reso Maureen Lipman una star di Dame Coronation Street, Dame Maureen, il primo membro del cast di Corrie ad essere onorato, è stata celebrata dall'account Twitter ufficiale di Charles e Camilla. Lawrence House ha tweetato «Congratulazioni a Maureen Lipman», che è stata nominata Dame Commander oggi dal principe di Galles durante una cerimonia di investitura al castello di Windsor. Attrice di successo con una carriera che dura da più di 50 anni, Dame Maureen è stata insignita del riconoscimento per i servizi alla beneficenza, all'intrattenimento e alle arti. Le investiture sono tradizionalmente ospitate dal sovrano, tuttavia, negli ultimi anni la regina ha condiviso questo compito anche con il principe Carlo, il principe William e la principessa Anna. Dall'inizio della pandemia di coronavirus. La regina ha condotto solo investiture speciali. Nel luglio 2020, ha nominato cavaliere il capitano Tom Moore nel quadrilatero del castello di Windsor per i suoi straordinari sforzi di raccolta fondi durante la prima ondata di infezioni da Covid. A metà settembre, mentre era ancora in vacanza estiva al castello di Balmoral, la regina tenne un'udienza privata con Peter Troughton, un amico di famiglia e membro del Royal Collection Trust, per investirlo delle insegne di comandante della Royal Victorian Ordine. Era stato elencato tra i destinatari di un CBO in occasione del Capodanno 2021 della regina. Seguendo l'ordine di riposo dei medici della regina, è improbabile che la sovrana effettui presto una cerimonia di investitura alla presenza di numerosi premiati, lasciando questo compito ai suoi due figli maggiori e al duca di Cambridge. Il 20 ottobre, Buckingham Palace ha annunciato che la monarca aveva deciso con rammarico di seguire il consiglio del suo team medico di riposare per alcuni giorni.